Ciao ragazzi e bentornati al nostro TG Eventi di Urban Week. Il 24 ottobre vediamo l'Happy Hour in musica con Claudia Tarantino a piazza San Domenico, Palermo. Il 25 ottobre vede Juicy Balsamo Trio al Club 29 di San Giovanni La Punta, Catania. Il 26 ottobre Trick or Treat al The Club, Malta. Il 27 ottobre invece abbiamo Jazz Dance alle Candele, Palermo. Continuiamo il 28 ottobre con Dinner and Party al Jumeirah, Palermo. Il 29 ottobre vede il torneo internazionale di poker Battle of Maltal all'Arena Eden. Concludiamo il 30 ottobre con il firma copie dei Mane Skin al centro commerciale Forum di Palermo. Vi ricordo che se volete fare pubblicità al vostro evento dovete scriverci sulla pagina facebook urbanweek.it. Pass Windows Us 분들은 Allci Buon Grazie a tutti.